ciao oggi voglio parlarti di pneumatici in particolare lo farò con un prodotto sportivo di michelin ovvero il pilot sport 5 passiamo adesso invece a conoscere le caratteristiche di questo michelin pilot sport 5 si tratta di pneumatici estivi disponibili in 49 misure che vanno dai 17 ai 21 pollici coprendo così circa il 60 per cento del mercato dei pneumatici estivi in questo caso si tratta di un pneumatico sportivo come dicevo all'inizio sportivo stradale ad elevate prestazioni cosiddetti uhp che va a migliorare quindi precisione di guida sicurezza e durata chilometrica rispetto al precedente pilot sport 4 in particolare abbiamo il battistrata con la tecnologia dual thread sport design derivato dalle competizioni con un lato interno costituito da ampie scalanature un elevato rapporto tra i vuoti per ottenere una migliore trazione e aderenza su fondi bagnati il lato esterno invece è costituito da tasselli più rigidi per avere il massimo delle prestazioni su asciutto abbiamo poi la tecnologia max touch construction che migliora l'impronta a terra distribuendo uniformemente le forze di accelerazione frenata e ovviamente anche quali laterali aumentando così la durata chilometrica infatti questo pilot sport 5 punta avere come minimo le prestazioni del 4 ma allungando appunto la durata chilometrica come vedete poi i canali longitudinali vanno a lavorare anche in sintonia con le scalanature trasversali per scaricare meglio l'acqua ed evitare i fenomeni di acqua planning questo pneumatico dovrebbe essere proprio indicato per una guida sul bagnato ed avere praticamente un acqua planning quasi nullo infine abbiamo la tecnologia dynamic response che prevede una cintura interna ibrida ovvero realizzata con aramide e nylon per ottenere migliori informazioni dalla guida poi vi faccio notare una cosa interessante che aiuta noi automobilisti questi marcatori che troviamo sullo pneumatico aiutano a tenere sotto controllo l'usura sono marcatori circolari come possiamo vedere a spessore differenziato una volta che questi andranno a scomparire vuol dire che è caso di sostituire il nostro pneumatico infine una cosa che forse non andrà ad aggiungere 10 cavalli alla vostra vettura ma sicuramente aggiunge punti stile guardate un po qua sulla spalla abbiamo questa finitura realizzata a laser che sembra quasi vellutata sicuramente appunto un tocco di stile che non avevo mai visto su altri pneumatici e poi alla fine va a sfumare su questa bandiera a scacchi che rimarca appunto l'utilizzo sportivo di questo pneumatico e allora dopo questa introduzione sugli pneumatici su questo michelin paleo sport 5 è giunto il momento di spostarci dal nostro gummista di fiducia ciardullo gomme dove andremo a seguire l'installazione degli pneumatici e poi andremo anche a verificare la loro tenuta di strada e il comportamento allora abbiamo finito ringraziamo lo specialista luigi ciardullo luigi allora che ne pensi di questi pilot sport 5 che ci sai dire a riguardo beh direi che comunque sia per iniziare michelin è un top di gamma che ormai da anni e anni la principale gomma che rappresenta tutte le gomme e adesso ha cominciato a fare delle gomme molto performanti come le pilot sport 5 che vanno veramente veramente bene e vanno bene anche per uso cittadino non solo a livello sportivo quindi puoi fare sia l'una che l'altra benissimo allora non ci resta proprio che andarle a provare ragazzi un'ultima cosa ricordatevi che elaborando il motore in pista si abbassano i centesimi e facendo l'assetto si levano i secondi allora adesso come vedete sono in macchina e quello che posso dirvi dalla mia esperienza avendo provato in precedenza anche le pilot sport 4 è che queste offrono un feedback superiore sono più sincere alla guida le percepisci meglio quando si arriva al limite livello di grip quindi di aderenza è simile sull'asciutto addirittura alle 4s che sono uno step superiore ovviamente alle pilot sport 4 e arriveranno poi anche le pilot sport 5s ma queste hanno una carcassa meno rigida delle 4s e infatti ho notato che sulle asperità assorbono bene non abbiamo fastidiose vibrazioni in abitacolo e soprattutto non lo sentiamo neanche appunto nella zona degli pneumatici queste cinque si sono ovviamente dei pneumatici sportivi ma offrono un leggero sottosterzo rispetto alle 4s che sono appunto per chi ricerca una prestazione in più e questo comunque le rende anche più facili da gestire ovviamente a scapito di un grip leggermente inferiore sull'anteriore ma si tratta proprio di qualcosa per i più raffinati per i più esperti quelli che cercano fino all'ultimo la prestazione dal proprio pneumatico sentite anche comunque come sono silenziosi non si avverte molto il rotolamento dei pneumatici diciamo è un livello sicuramente accettabile appunto nonostante si tratta di un pneumatico performante ti danno quindi maggiore confidenza ma questo è valido anche sul bagnato abbiamo infatti provate e lo stacco con il pneumatico precedente che era montato su questa vettura ma anche con il pilot sport 4 è evidente la vettura risulta molto stabile soprattutto al posteriore e l'acqua planning è praticamente nullo ne mettiamo un po sotto torchio sentite appena appena non c'è quel fischio fastidioso senti proprio bene come lavora lo pneumatico ma soprattutto non vanno scaldate a differenza di altri pneumatici che lavorano bene con vetture pesanti o necessitano un pochino di andare in temperatura queste ps5 sono già pronte e performanti fin dai primi metri di utilizzo ah e ovviamente la frenata non può che beneficiare di questa mescola un po più morbida ma con chilometraggio migliorato rispetto al pilot sport 4 quindi diciamo abbiamo prestazioni vicine al 4s con una durata chilometrica superiore al precedente palo sport 4 e freniamo impressionante vabbè allora adesso so che ti starai chiedendo ma quindi perché dovrei scegliere queste michelin ps5 beh perché te lo dico io ovviamente no vabbè a parte gli scherzi allora innanzitutto perché io ho provato dal pilot sport 3 passando poi per il 4 e 4s sono arrivato anche a questa 5 devo dire che effettivamente il progresso c'è stato la 3 era comunque una gomma sportiva mamma non ti dava tanto a sicurezza sembrava sempre un pochino scivolosa questa condizione è stata risolta già con la pilot sport 4 ma su questa nuova pilot sport 5 abbiamo raggiunto veramente altissimi livelli di confidenza alla guida e allora pilot sport 5 vediamo cinque motivi insieme per cui scegliere questo pneumatico innanzitutto il design ti ho fatto vedere come questa felpatura realizzata a laser le dona un aspetto veramente unico ed originale soprattutto esalta anche il design estetico di questa vettura e poi secondo motivo diciamo molto più concreto comfort e prestazioni uno pneumatico che come dicevo è sportivo e quindi da anche un bel piacere di guida se sei appunto un amante anche della guida sportiva e continuando su questo filone c'è da analizzare anche il chilometraggio pilot sport 4 era sì uno pneumatico sportivo ma tendeva a consumarsi più in fretta rispetto ad altri prodotti diciamo di medio gamma con la ps 5 ovvero questo modello michelin è stata in grado di avvicinarsi addirittura alle prestazioni della pilot sport 4s ma allungandone anche il chilometraggio e questo grazie appunto alle tecnologie della mescola che ha sviluppato appositamente con questa pilot sport 5 e poi veniamo un altro fattore importante ovvero la tenuta sul bagnato uno pneumatico che si comporta egregiamente riducendo al minimo l'effetto dell'acqua panning e mantenendo sempre un ottimo contatto a terra anche appunto come abbiamo visto sul bagnato e poi infine abbiamo un ultimo valore importante ovvero la frenata frenata che mi ha davvero colpito e mi sembra la migliore di sempre rispetto appunto a questa linea di pilot sport della michelin innanzitutto vediamo come si leggono le scritte riportate sul pneumatico cosa vogliono dire quelle che troviamo sulla spalla e sulla etichetta la prima cifra che rivediamo riportata sulla spalla indica in millimetri la larghezza nominale della sezione del pneumatico la seconda invece la cosiddetta spalla ovvero il rapporto tra l'altezza e la larghezza di cui vi ho parlato prima poi abbiamo l'indicazione zr in questo caso vuol dire che l'opneumatico può raggiungere velocità superiori a 240 km orari e la zr va a raccogliere l'indici w e y proprio come in questo caso ma ci arriviamo tra poco inoltre la r sta a significare radiale si riferisce alla struttura interna dell'opneumatico che è composto dalle cosiddette tele che sono formate da diversi materiali questi possono essere nylon kevlar e anche poliestere dopodiché 17 in questo caso sta a indicare il diametro interno dell'opneumatico che ovviamente deve andare a corrispondere con quello del cerchio su quello andremo a calettare come avevo già accennato abbiamo poi l'indice di carico e l'indice di velocità l'indice di carico indica la portata del singolo pneumatico cioè quanto peso posso portare in questo caso c'è scritto 94 quindi sono 670 kg passiamo poi all'indice di velocità che invece è una y quindi la velocità massima per cui è stato omologato questo specifico pneumatico y corrisponde a 300 km orari vi ricordo che entrambi possono essere maggiori o uguali a valore riportato sul libretto di circolazione con l'eccezione però dell'indice di velocità che può essere anche inferiore ma solo per i pneumatici invernali questo perché tendenzialmente si tende a installare delle misure un po più piccole quindi anche l'indice di velocità potrebbe essere inferiore ovviamente però solamente nel periodo invernale infine un altro parametro interessante che ci può aiutare a capire come è costituito questo pneumatico soprattutto nella fase di acquisto è il cosiddetto dot in particolare ci può interessare il periodo di fabbricazione dello pneumatico qua leggiamo 12 23 quindi vuol dire la dodicesima settimana del 2023 il dot comunque può anche indicare lo stabilimento di produzione e il codice dimensionale ma poi siccome siamo anche in europa troviamo la marchiatura europea in questo caso abbiamo e 2 adesso parliamo anche della etichettatura europea per gli pneumatici è stata introdotta nel 2012 e aggiornata nel 2021 vengono riportate efficienza in termini di consumo di carburante capacità di aderenza dello pneumatico sul bagnato e rumorosità del pneumatico oltre a indicare se la gomma è idonea per la guida su fondi nevati o ghiacciati ma in caso no perché abbiamo un pneumatico estivo innanzitutto possiamo notare che oltre alla misura dello pneumatico c'è anche un qr code per accedere ai dettagli forniti dal database europeo eprel poi abbiamo anche un codice identificativo del tipo di pneumatico e poi ci sono i tre parametri riportati qua grandi il primo parametro indica il consumo di carburante che va da una scala da ad e indicando quindi la resistenza a rotolamento dello pneumatico maggiore sarà questo valore maggiore sarà anche la forza necessaria per farlo girare aumentando di conseguenza il consumo qua siamo su un valore c quindi diciamo intermedio il secondo parametro indica l'aderenza su fondo bagnato ovvero la capacità dello pneumatico di arrestare il veicolo che viaggia a una velocità di 80 km orari viene valutato attraverso cinque classi che vanno dalla lettera a ottima aderenza alla lettera e bassa aderenza tra una classe e l'altra poi c'è una differenza di spazio di frenata che va dai 3 a 6 metri in questo caso abbiamo proprio una bella a infine il terzo parametro indica le emissioni di rumorosità esterna generate dallo pneumatico e misurate in decibel vanno dalla lettera a alla lettera c a pneumatico silenzioso b pneumatico con rumorosità moderata e c pneumatico rumoroso in questo caso abbiamo 72 decibel e una b pneumatico con rumorosità moderata quindi anche in questo caso siamo a metà classifica ragazzi una raccomandazione per tutti che vale su ogni pneumatico attenzione il detto dice gallina vecchia fa buon brodo ma questo non vale sugli pneumatici perché va bene controllare l'usura abbiamo visto anche come si fa e in questo caso abbiamo anche dei segni che ci aiutano appunto a capire l'usura di questo pneumatico però le gomme si cristallizzano con il tempo invecchiano diventano più dure e questo le rende meno performanti soprattutto sul bagnato quindi fate attenzione alla data che è stampigliata verificate dopo un po' anche la durezza dello pneumatico perché una volta che si è cristallizzato lo pneumatico non performa più come prima non è morbido la mescola non ha più le sue proprietà iniziali e quindi rischiate di farvi male mi raccomando sempre consapevolezza alla guida e allora direi che questa prova si conclude qui abbiamo analizzato tutti gli aspetti del pneumatico partendo in generale da come si legge e quali sono i valori appunto riportati poi abbiamo visto un po' le caratteristiche di questo pilot sport 5 e l'abbiamo messo alla prova sul campo perché noi qui le cose le testiamo veramente un saluto allora qua da marco e vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito news auto punto it di attivare la campanellina sul video se non l'hai ancora fatto ovviamente di iscriverti di lasciare un bel mi piace un commento che è sempre gradito alla prossima allora con questi video ciao grazie a tutti grazie a tutti